Sono le sette e mezza Speciale DR stagione estate 2024, il 28 si riapre e per non far torto a nessuno siamo qui al circolo Surf Torbole per ricordarvi che dal 21 agosto al 2 settembre La mitica One Hour Speciale Conca d'Oro, John Siamo al Botton Center e per gli speciali di Winfoy Campione oggi aspettiamo i pro Vedi Tomasi, vedi, vedi Vedi Zorzi Poi qua c'è già gente di Ravenna E comunque, e comunque, vedi il dronista Comunque qua, oh, si può già uscire E per il momento, per Winfoy Campione È tutto Ciao a tutti 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 Grazie a tutti.